Secondo la Iurveda, puoi perdere fino a 3 chili a settimana se consumi zenzero e limone. In questa combinazione perfetta per la perdita di peso e riduci grassi saturi animali come formaggi e latticini, carni rosse grasse come i salumi e lo zucchero bianco. Troppo bello per essere vero? Lo zenzero è una radice nota in tutto il mondo per le sue proprietà salutari. Soprattutto come antinfiammatorio e per la proprietà carminativa amica dell'apparazzo digerente. In Iurveda questa radice viene utilizzata come formula dimagrante per le sue numerose proprietà che favoriscono la perdita di peso. Non solo migliora le funzioni digestive ma ha anche un effetto termogenico che aiuta ad attivare il metabolismo, rendendolo un potente brucia grassi e brucia calorie. Il limone è un altro dei cibi farmaci naturali che promuove la salute in diversi modi ed è considerato un agente dimagrante naturale. Il contenuto di vitamina C lo rende un antiossidante molto efficace che promuove l'eliminazione delle tossine dal corpo. Combatte la ritenzione idrica, aiuta a disintossicare il corpo e contribuisce a una riduzione del gonfiore addominale. Come è possibile perdere peso con zenzero e limone? Perché sono ingredienti che promuovono l'eliminazione di grasso e tossine dal corpo. Usati insieme sono considerati una potente formula naturale dimagrante che può aiutare a integrare la dieta per dimagrire. Vediamo come preparare entrambi questi ingredienti per accelerare il dimagrimento. Pronti? Ecco come fare il tè allo zenzero e limone. Detox dimagrante. Brucia grassi. Fai bollire una tazza di acqua. Una volta che bolle spegni il fuoco, aggiungi diverse fettine di zenzero e lascia in infusione per 10 minuti coperto. Passati 10 minuti aggiungi il succo di un limone, ed è pronto da bere. Facile no? È meglio bere questo tè prima di colazione così si gode di tutti i benefici per tutta la giornata. Elimina le tossine. Combatte il colesterolo cattivo LDL. Depura il corpo da tossine e scorie. Rafforza il sistema immunitario. Mantiene la pelle giovane, sana e idratata. Favorisce una buona digestione e combatte i problemi digestivi. Zenzero e limone sono come due buoni amici. Da affiancare a una dieta equilibrata, al giusto movimento fisico, e bere due litri di acqua ogni giorno. Così è più facile perdere i chili di troppo che ci portiamo sempre addosso. Guarda in descrizione il link ai miei libri ed ebook su cellulite e dimagrimento naturale. Queste informazioni sono il frutto della mia esperienza personale. Il mio scopo è divulgare. Per saperne di più leggi in descrizione. Noi ci vediamo al prossimo video. Nel frattempo, sempre più trendy e sani con Simona Vignali, naturalmente. Iscriviti al canale, metti il tuo mi piace, condividi e grazie per aver guardato questo video. Ciao!